L'obiettivo regionale di trasferire le professionalità, le competenze dal Lab regionale, l'Istituto Gaslini alle province si è concretizzato nella nostra realtà provinciale con l'Ambulatore di Celiachia che è stato realizzato e ha iniziato a lavorare dallo scorso novembre. Siamo molto contenti perché innanzitutto si è andato incontro alle famiglie che non devono più andare sino a Genova per avere professionalità di alto profilo. Certamente dobbiamo ringraziare il Gaslini, la Direzione Generale, la Direzione Sanitaria, il Dottor Ganduglia e il Dottor Crocco che hanno dato la disponibilità appunto per venire qua da noi due volte al mese in questo momento per formare i medici del mio reparto che affiancandosi e ascoltando e imparando l'esperienza che ha il centro regionale potranno poi proseguire in autonomia o in parziale autonomia anche l'attività assistenziale qua in provincia d'Imperia. Quindi è un plauso generale che riguarda la Celiachia che sta riguardando anche l'allergologia e la diabetologia per cui la progettualità del Gaslini diffuso comincia a concretizzarsi nelle realtà provinciali qua da noi in provincia d'Imperia. Siamo molto contenti di quello che sta accadendo. Siamo molto orgogliosi di come stanno procedendo gli ambulatori del Gaslini diffuso, in particolare quello della Celiachia che siamo partiti a novembre qui a Imperia e ad oggi siamo già a 99 visite con 90 pazienti che sono stati transitati da Genova su Imperia perché residenti nel ponente Ligure e con soddisfazione ovviamente delle famiglie e anche del reparto della pediatria di Imperia perché allarga quella che è l'offerta ambulatoriale specialistica che si va a sommare al diabete, all'allergologia che erano già in essere. Sì, il Gaslini di Genova effettivamente si conferma all'avanguardia sulla malattia celiaca e noi da oltre 23 anni siamo al centro regione di riferimento e questo progetto pilota che ha coinvolto Imperia ma non solo Imperia perché sono coinvolte anche altre sedi, per esempio già siamo attivi alla Spezza, presto saremo attivi anche a Lavagna e prevede un'ottimizzazione di quella che è l'assistenza al paziente e allo stesso tempo l'integrazione con quella che è la nostra attività di ricerca clinica e pratica che ci vedrà presto anche coinvolti in futuro nello screening per la malattia celiaca in tutta la popolazione regionale. Questo progetto pilota che attualmente ha coinvolto 100 famiglie qui a Imperia ha sicuramente delle ottime potenzialità, è stato anche da poco premiato come best clinical practice per quanto riguarda la malattia celiaca in un congresso nazionale, abbiamo anche pubblicato recentemente quelli che sono i primi risultati dal punto di vista dell'assistenza, di quello che è il feedback da parte delle famiglie, abbiamo tra l'altro un progetto unico in Europa che si chiama appunto Abespoke che prevede la centralizzazione del paziente più complesso e l'assistenza del paziente invece senza complicanze presso appunto i centri più vicino casa che è stato sottoposto a una rivista internazionale per una pirripi come si fa ormai da 20 anni nella medicina. Abbiamo diciamo da poco validato anche l'unico questionario in Italia, in lingua italiana appunto sulla qualità di vita nel paziente pilota con malattia celiaca e stiamo validando anche qui ad Imperia un questionario invece sull'aderenza alla dieta senza glutine che attualmente è l'unica terapia possibile per queste famiglie. Quali sono i segnali di allarme per una famiglia sulla celiachia dei propri figli? Ecco, allora i segnali di allarme possono essere per la forma cosiddetta tipica i sintomi gastrointestinali quindi il malassorbimento, quindi la diarrea, il vomito, un bimbo che cresce poco sia di peso o in altezza. Un bimbo che però sempre più spesso ormai abbiamo scoperto che la malattia celiaca si presenta con dei sintomi cosiddetti atipici. I sintomi atipici possono essere più disparati, più comuni sono il convolgimento della cute, dei denti, quelle che sono le anomalie dentali, a volte anche una fragilità dentale che porta a frequenti carie nonostante una buona igiene dentale, diciamo dei rascio, quindi degli sfoghi cutanee sulla pelle continui, anche la stanchezza cronica è presente in circa un terzo dei bambini e circa la metà dei pazienti ha un basso livello di ferro nel sangue e questo è molto importante perché ad esempio molto spesso seguendo i bambini siamo arrivati a diagnosticare anche i genitori che avevano questi sintomi atipici, penso ad esempio alle donne in gravidanza che hanno molto spesso anemia e misconosciute che non vengono indagate. Quindi ormai le linee guida europee prevedono che per circa 100 tra sintomi e segni venga seguito uno screening e a maggior ragione il Ministero della Salute è intervenuto recentemente con quello che è il progetto di screening nazionale di cui vi parlavo prima, proprio per far emergere soprattutto le forme tipiche o le forme silenti perché la metà della popolazione con malattia celica in realtà non ha segni e sintomi, sebbene poi una volta che avviano la terapia, cioè la dieta senza glutine, in realtà si accorgano dei benefici soprattutto intorno all'energia nel bambino e quindi la metà della popolazione non ha sintomi e quindi uno screening nei familiari di primo grado e nelle persone che hanno altre malattie autoimmuni, penso ad esempio a quante donne hanno la tiroidite e scoprono dopo 20 anni di essere celiache, molto spesso queste sono persone e chiaramente fin dall'infanzia erano in celica, quindi lo screening delle persone con altre malattie autoimmuni e con familiari di primo grado è sicuramente importante per far emergere una parte di questi pazienti che in realtà non hanno ancora ricevuto una diagnosi e sappiamo che chi non esegue una terapia ha un rischio di mortalità maggiore nel lungo termine legato soprattutto a forme di tumori intestinali rare ma non rare nella popolazione con malattia celiaca.